Negli appalti pubblici l'incremento dei costi che si verifica nel corso dell'appalto può rendere il contratto squilibrato. L'appalto può dunque diventare anti-economico. Il rischio per l'appaltatore è quello di subire gravi danni. L'aumento dei costi può configurare una causa di eccessiva onorosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 del Codice Civile. Si badi bene, l'onorosità sopravvenuta non implica la risoluzione del contratto in automatico. Questa deve essere infatti necessariamente pronunciata da un giudice il quale va a verificare il mutato assetto negoziale. L'azione potrebbe essere neutralizzata dall'altra parte la quale può offrire di modificare equamente le condizioni contrattuali. C'è una possibilità per far vivere o sopravvivere il contratto. Il dovere generale di bona fede impone ai contraenti di rendersi disponibili a intavolare nuove trattative e di condurle correttamente, ma non anche di addivenire ad una rinegoziazione contrattuale. La giurisprudenza tuttavia tende, sempre più spesso o negli ultimi tempi, a censurare i comportamenti di quelle amministrazioni che neanche procedono ad intavolare delle trattative e che invece preferiscono agire direttamente per la risoluzione contrattuale in danno, ossia a causa dell'inadempimento dell'appaltatore. Appaltatore che naturalmente, mutate le condizioni di mercato, non riesce a far fronte ai propri impegni. L'appaltatore aveva subito un incremento dei costi nella fornitura, nella specie si parla di memoria RAM, e aveva chiesto all'amministrazione di rinegoziare e di rivedere i prezzi del contratto. L'amministrazione tuttavia risponde negativamente, il contratto non conteneva la possibilità di rivedere i prezzi, al contrario, conteneva il divieto di revisione dei prezzi. E proprio in ragione di questa circostanza, la committenza avvia l'iter per la risoluzione in danno del contratto. Secondo il Tribunale, in simili situazioni, deve operare il canone della buona fede. È un principio generale che implica il dovere di ciascuna parte, di realizzare l'interesse dell'altra, o di evitare di recarle danno, anche con l'adempimento di obblighi non previsti dalla legge o dal contratto. La buona fede integra il contratto e costituisce un canone di interpretazione delle disposizioni contrattuali. In altre parole, in assenza di una norma specifica sulla rinegoziazione contrattuale nel nostro ordinamento, anche nell'ambito di un contratto pubblico, vige in ogni caso l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, che significa anche avviare delle trattative per poter ridiscutere l'assetto negoziale. Ricordiamo che il contratto rinegoziato sopravvive, ma appunto adeguato al nuovo contesto. Ad avviso dei giudici, solo qualora una rinegoziazione non sia possibile, perché ad esempio le trattative sono state avviate nel rispetto del principio della buona fede e tuttavia non si è giunti ad una rinegoziazione, trovano applicazione i principi generali in materia di risoluzione e quindi l'articolo 1467 del Codice Civile. Il giudice in questo caso ha applicato l'articolo 1467 che disciplina la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, senza però addossare a nessuna delle parti la colpa della risoluzione. Secondo il Tribunale, sebbene l'amministrazione non potesse dirsi obbligata a modificare i prezzi del contratto, ricordiamo la clausola di divieto di revisione dei prezzi, non era comunque possibile pretendere dall'appaltatore l'adempimento al prezzo pattuito non tenendo in debita considerazione il contesto attuale, ossia l'aumento di circa il 50% dei prezzi rispetto a quanto pattuito. Di conseguenza il contratto non deve dirsi risolto per inadempimento dell'appaltatore, ma per eccessiva onerosità sopravvenuta.